Sono Pisa, Firenze e Livorno le realtà della Toscana in cui l'emergenza abitativa sta assumendo i caratteri più preoccupanti. Al primo posto il Pisano dove nel 2013 le richieste di sfratto con ausilio della forza pubblica 3227 sono cresciute del 25% rispetto all'anno precedente. Segue a ruota l'area attorno a Firenze che nel 2014 sembra destinata a un nuovo primato visto che ogni giorno vengono depositati in tribunale 25 richieste di ingiunzioni di sfratto. Emergenza che secondo il sindacato inquilini che ha raccolto questi dati, il Sunia, non potrà essere risolta dalla vendita di 1249 case popolari annunciata dal sindaco Dario Nardella, quanto piuttosto dall'impiego del Fondo Nazionale di contrasto alla morosità incolpevole. Un fondo composto da 3 milioni e 8 di trasferimenti statali e 4 milioni regionali e che serve a risarcire temporaneamente i proprietari per i mancati introiti dovuti agli inquilini morosi. Questi soldi però, dice il Sunia, devono arrivare in fretta nelle tasche dei cittadini. Fino all'anno scorso erano erogati con una lentezza assurda perché qui si parla di emergenza e quindi deve essere tutto molto più veloce e si parlava addirittura di un anno prima che il proprietario potesse avere il finanziamento. Chiediamo che siano tempi rapidi, veloci e che effettivamente riescano ad incidere sugli sfratti per morosità. Unica provincia in cui il numero degli sfratti nel 2013 è calato rispetto all'anno precedente e Prato. Sono diminuiti ma il perché l'anno scorso fu un anno tragicissimo, ci fu un aumento tutto esponenziale delle esecuzioni che fece risalire da Prato proprio al primo posto tra i comuni della Toscana con più sfratti per morosità. Anche qui però nel 2014 la situazione è destinata a peggiorare visto che quella di Prato è la provincia con meno case popolari di tutta la Toscana.